Sì, sì, ma è stato già detto bene, un segno di compattezza che Putin voleva dare al mondo. Ecco, quello che chi guarda queste immagini si chiede è se questo stadio, questo comizio, sono un segno che la guerra andrà avanti, oppure sono il segno che forse qualcosa Putin può cominciare a concedere sul piano delle trattative, perché poi questo, ecco, io ho l'impressione che la prima ipotesi purtroppo sia quella giusta, cioè che questa manifestazione venga organizzata nel momento del massimo sforzo da parte di un'armata russa in difficoltà e che quindi purtroppo la fine di questa tragedia non è alle viste. E a proposito del massimo sforzo, diciamo, stamattina ci siamo svegliati con notizie di vari attacchi su vari fronti, no? E adesso Alessio ci dava la notizia che è stato preso l'aeroporto di Mariupol. L'aeroporto di Mariupol dai filorussi, sì, la notizia è stata data dall'agenzia di stampa Ria Novosni, non è stata comunicata dal palco questa notizia, ma è di non poco conto, perché Mariupol, se vediamo poi la cartina, la collochiamo anche geograficamente, si trova molto vicino alle aree del Donbass, si combatte da giorni, ci sono circa 300-350 mila persone intrappolate in quell'inferno che vivono, parole degli amministratori locali, bevendo neve e bruciando qualsiasi cosa sia a disposizione per tenersi caldo con temperature che di notte scivolano intorno ai meno 10 gradi.